Eccoci qui ragazzi Mamma mia Siamo arrivati al ruolo Veramente forse più richiesto Dai commenti Dai direct che ci avete mandato Ed è il CoC Ragazzi questo è un ruolo molto particolare Soprattutto in Pro Club Non è come FUT ovviamente Che nel 4-2-3-1 il CoC è fondamentale Come proprio ruolo Qui su Pro Club è un po' Ibrido nel senso Io non lo consiglio Di base ossia Se possibile In un modulo in cui esiste Il CoC potrebbe essere settato Non come il CoC stesso Bensì come un ATT, come un CC Come un esterno Quindi sinceramente Non me la sento di consigliarvelo Perché ha Dele lacune dal punto di vista Proprio di Stats Cioè ha delle stats Troppo troppo più basse Rispetto ad altri bot Però Però effettivamente Se vi trovate bene Con un bot Sgusciante Tecnico E Che possiede Un buon passaggio Un ball filtrante Allora potreste optare Con il CoC Ragazzi andiamo subito Nell'inquadratura Di gioco Dove abbiamo Settato Il CoC Secondo me 1,77 È molto Molto Performante Per sempre 68 kg Perché Ovviamente Aumentare il peso A CoC Non avrebbe senso Secondo me Perché Ripeto Deve sgusciare E quindi Deve avere Molta velocità Non velocità Ovviamente Intesa come Accelerazione E altro Ma come agilità Deve essere agile E quindi deve essere leggero Quindi potete anche Diminuire Ulteriormente La Ovviamente Il peso E l'altezza Per quanto riguarda il fisico L'avete visto Sempre il solito setting La difesa La azzeriamo Per quanto riguarda invece Il dribbling Ecco Il dribbling L'abbiamo accesa Fino alle 4 stelle skill Però Potremmo andare anche Oltre Accendere le 5 stelle skill Se siete skillomani Possiamo ovviamente Accendere anche la classe Per Il tacco Però questo Ovviamente È un vostro Una vostra scelta Io Sceglierei di arrivare Fino a specialità di passaggio Effetto passaggio E Ovviamente Metteremo un po' Anche sui tiri Io Questa è una scelta Personale Ossia Cedere al Piede debole Almeno 3 Almeno E dare qualcosa In più sul tiro Perché per me Il COC Comunque È quello che arriva Al limite dell'aria E su Pro Club Ovviamente È importante Che si tiri anche Da lì Altrimenti Vedete Io sto spegnendo Io sto spegnendo I tiri E aumentiamo Una stella in più Su piede debole Questa è una scelta Ripeto Comunque personale Potrete anche Lasciare Tre piede debole Aumentare un po' Più i passaggi Oppure un po' Più il dribbling E mettere la classe Questo è una vostra scelta Allora Il COC non è velocissimo Di accelerazione Velocità scatto Quindi io Comunque consiglio di attivare Tutte le carte Della velocità Il portiere ovviamente È disattivato COC è molto personale Quindi secondo me Voi dovete Veramente provarlo Con diverse varianti Io l'ho testato Forse non troppo Nel senso Non troppe partite Quindi Inizialmente Mi sono trovato bene così Probabilmente voi Non sarete Della stessa opinione Vedete Come l'ho settato io Comunque equilibrato Buona agilità Equilibrio Elevazione Riflessi Resistenza Tutto sull'85 Senza eccedere Vedete Se alziamo l'altezza Ovviamente Si abbassa la velocità Aumenta un po' i riflessi Un po' la resistenza Un po' la forza Ma Secondo me Non ha molto senso Quindi Oltre l'1.77 Non andrei Vedete 1.84 Comunque Mantiene ancora Una certa forza Una certa resistenza Ma la velocità Cala In maniera incredibile Anche l'equilibrio Che ragazzi In questo gioco L'equilibrio è importantissimo Lo stanno anche Capendo su foot Quindi Io starei molto attento A guardarlo sempre Quello è dato Abbassando un po' il peso Vedete Anche l'altezza Aumentiamo la velocità Abbassiamo un po' l'equilibrio Però Per il resto Abbiamo abbastanza Un bot Lineare Lo lasciamo così 1.72 Per 68 Lo analizziamo Rispetto a prima Ragazzi Abbiamo una Leggera Un leggero Boost In velocità Agilità 1.2 In più Però Per il COC Si serve Ma se gioca Tra le linee Ragazzi Secondo me Serve pure L'equilibrio Quindi 1.77 Per 68 Kili Se dovessi Scegliere Penso che sia L'opzione migliore Vedete voi Ritorniamo Sulla mia inquadratura Questo video È stato Molto interessante Perché ripeto È stato A questa conclusione 1.77 Per 68 Kili Ragazzi Se vi è piaciuto Il video Mettete il like Qui sotto E seguiteci Sui nostri Socials Con i link Sempre nella Descrizione Qui sotto Instagram Per H24 Notizie E Facebook E Twitter Per la squadra Pro Club Ovviamente Twitch Per le live Mi raccomando Ragazzi Campanellina Ok L'avete attivata Ok Grazie E ci vediamo Al prossimo video Che se non erro Che se non erro Dovrebbe essere Vabbè Lo vedrete Ciao Ciao Ciao